Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Sicuramente la maggioranza di voi avranno appreso di questa triste notizia che ha visto qualche giorno fa perdere la vita due carabinieri mentre erano in servizio. Hanno perso la vita perché una 31enne che poi è risultata positiva all'alcol test e a poche è arrivata a una certa velocità diciamo così non rispettando il codice della strada di accentrati in pieno e non c'è stato nulla da fare per i due carabinieri. Ora quello che ancora una volta perché non è certamente la prima volta ancora una volta la cosa che mi indigna sono come sempre in questi casi le misure estremamente blande nei confronti di chi commette questi reati perché nel momento in cui tu assumi alcol e droga e ti metti alla guida di una macchina tu sai perfettamente quello che rischi tu e fai rischiare soprattutto agli altri. Insomma se ci rimetti tu la vita è un problema tuo soprattutto ma se a causa di questo comportamento assolutamente illegale inaccettabile perdono la vita altri ecco io mi indigno quando non ci sono poi da parte del nostro stato della nostra magistratura delle pene esemplari. In questo caso è ancora a piede libero vedremo cosa succederà ma lo sappiamo perfettamente per esperienza che se proprio le dovesse andare male prenderà cinque anni mentre in altri paesi come è successo di recente anche negli Stati Uniti prenderebbe l'ergastolo. Andate su internet vedete incidente stradale ergastolo per il colpevole e vedrete che troverete questa notizia quindi non vi dico le cose a vambara così tanto per dirvele. Invece ripeto nel nostro paese assolutamente nessun arresto e la cosa sapete qual è l'aggravante che ci deve ulteriormente fare indignare in questo caso? Che era già stata indagata arrestata nel 2019 per droga quindi era un soggetto già conosciuta con dei precedenti e quindi avendo dei precedenti non si capisce perché si interviene immediatamente e questa venga arrestata perché è evidente che se tu la metti a piede libero in attesa del processo e lei anche se probabilmente spero è almeno non c'è scritto ma spero che gli abbiano ritirato la patente ma una pazza così potrebbe anche andare in giro senza patente drogata e quindi causare altre morti quindi certo che è pericolosa a questo punto per la collettività ma nulla di tutto questo siamo in Italia è successo molte volte vi ricordate anche l'episodio a Roma di quei disgraziati di influencer che avevano noleggiato una Lamborghini e avevano causato la morte di un bambino di cinque anni ecco io credo che ormai siamo arrivati al culmine di una indignazione perché non basta più indignarsi io credo che bisognerebbe davvero prendere delle posizioni come cittadini molto molto più duri nei confronti da un lato di chi commette questi reati e dall'altra delle istituzioni che assolutamente non tutelano il cittadino non tutelano chi è vittima di questi comportamenti assolutamente inqualificabili con questo vi lascio vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi grazie